Sono cinque i calciatori dell'Olimpia agnonese positivi al coronavirus, rinviata la gara di Tolentino di domenica ed è a rischio quella con il Giulianova in programma il 23 dicembre. I nuovi positivi sono emersi dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi e si è in attesa di altri risultati. Dopo i tre contagiati registrati alla vigilia del match contro la Re Canatese, il virus ha colpito altri due elementi della rosa allenata da mister Stefano Senigallesi e così il club Granata ha provveduto ad allertare la Lega Nazionale di Lettanti che nelle prossime ore quasi sicuramente opterà per il rinvio della partita di domenica. Manca dunque solo l'ufficialità che giungerà, come detto, nelle prossime ore. Inoltre è a forte rischio anche il match di mercoledì 23 dicembre tra gli alto molisani e il Giulianova che da calendario si sarebbe dovuto disputare al Civitelle. Nel frattempo la società del presidente Daniele Trotta ha interrotto gli allenamenti che valuta la possibilità di riprendere le attività con l'inizio del nuovo anno. Naturalmente la speranza è di recuperare quanto prima i giocatori colpiti dal Covid, anche per non perdere il grande lavoro svolto durante la sosta forzata.